Buonasera a tutti, volevo mostrarvi uno dei miei quadri, cioè questo che vedete alle mie spalle, che si chiama La Peregina, è un quadro che tratta il tema dell'alveare, scusatemi ho l'obiettivo un pochino sporco quindi lo pulisco un pochino, però oltre a fare questo volevo anche far durare la diretta un pochino di più, qualche minuto di più, in quanto questa sera c'è Sanremo e siccome io diciamo che sto soffrendo moltissimo per l'Italia chiusa i teatri chiusi, le attività che stanno fallendo, Venezia che è praticamente morta, io spero di rubare anche solo un unico spettatore a Sanremo, in quanto Amadeus credo prenderà 200.000 euro, 500.000 euro, non lo so, non mi sono informata ma sicuramente tantissimi soldi e io non sono d'accordo, non sono d'accordo sul fatto che i teatri siano chiusi, che i cinema siano chiusi, che i bar siano aperti solo a fuso orari, quindi io mostro questo mio quadro anche un po' come segno di rivolta contro questa situazione che sta distruggendo non solo l'economia ma anche la salute e l'umore delle persone. Quindi volevo mostrarvi questo quadro, cosa rappresenta, cosa significa? è un alveare, quindi questo è il famoso favo, quindi ci sono questi esagoni che sono la forma perfetta in natura, infatti non esiste una forma migliore di quella del favo, di questi esagoni che possono continuare all'infinito, forse non tutti voi sanno che l'ape regina è veramente qualcosa di incredibile, nel senso che l'intero alveare viene creato dall'ape regina, cioè cosa significa? Che le api operaie in realtà non sono feconde, solo l'ape regina può dare vita alle altre api, infatti solo l'ape regina fa l'amore con i fuchi che sono queste api maschio ed è da essa che deriva l'intero alveare, quindi questa ape gigante io ho rappresentato questa donna che è una via di mezzo tra un'ape e una donna, quindi è un'ape regina e lei ha questo compito incredibile di creare l'intero alveare, sembrerebbe più fortunata rispetto alle altre api, in realtà è molto sfortunata in quanto ha una vita estremamente difficile, lei deve sempre stare nell'alveare e non può volare, vola molto raramente, vola solo per riprodursi o nel caso voglia cambiare alveare e cambiare posto e quindi lei ha questa vita che sembra privilegiata, in realtà è una vita molto difficile, ad un certo punto le api operaie la uccidono e quindi questo fa riflettere sul fatto che anche la realtà delle api ha delle dinamiche politiche molto simili a quelle dell'uomo, infatti anche nella società umana ci sono persone che hanno ruoli diversi, magari ruoli più importanti, che però sono anche ruoli molto più difficili perché molte persone sono state anche uccise per i loro ideali, per cercare di rendere le cose migliori nel mondo quindi non è detto che avere un ruolo importante in politica come nella società sia per forza una cosa positiva a volte i privilegi si trasformano in gabbie, pensiamo agli anni di piombo qui nel Veneto quando sono stati uccisi tantissime persone, imprenditori, solo perché avevano dei ruoli centrali quindi insomma io volevo mostrarvi questo quadro che per me è un quadro molto importante che ho fatto recentemente, l'ho fatto durante il lockdown, sono stata molto creativa durante il lockdown e questo quadro parla di come la natura può aiutarci in quanto secondo me le api hanno una società, una politica quasi perfetta infatti è dalle api che deriva tutta la natura perché se non ci fossero le api non avremmo la maggior parte delle verdure, dei fiori, dei frutti infatti tutti voi sapete che le api creano, grazie a loro avviene l'impollinazione quindi sono veramente degli animali fondamentali nel nostro ecosistema e il tipo di società, il tipo di politica delle api è perfetto in quanto loro sono tutte unite tra di loro, non possono separarsi e a modo loro hanno un equilibrio perfetto quindi a mio parere la società umana dovrebbe prendere esempio dalle api quindi il fatto di dover stare tutte insieme, il fatto di dover collaborare di dover creare questo alveare meraviglioso tutte insieme e di dover convivere serenamente insieme quindi spero di essermi espressa bene, spero di aver rubato anche un solo spettatore a Sanremo e quindi niente, questa è l'ape regina che sembrerebbe avere un ruolo fortunato in realtà ha una vita molto dura e questi sono tutti i colori del favo perché in realtà le api raccolgono il polline da tantissimi tipi di fiori diversi come potete vedere all'interno dei diversi esagoni ci sono magari dei disegni, dei concetti, dei colori, dei fiori che appunto rappresentano tutti i fiori dalle quali collegati alla vita delle api e niente, l'ho realizzato con colori spray, con acrilico, con pennarelli, un po' con tutto e niente, spero che vi sia piaciuto il mio quadro e spero che questa sera non guarderete Sanremo perché spero con tutto il cuore che vi rendiate conto che è molto più importante che riaprano i teatri, i cinema, i ristoranti le scuole hanno già riaperto ma spero che le cose migliorino per le future generazioni sulle quali abbiamo creato un debito terrificante per non parlare dei problemi psicologici che abbiamo creato è stato provato dall'OMS che il 75% dei giovani ha gravissimi problemi psichiatrici per colpa del lockdown quindi con questa ape regina quindi il simbolo della natura la natura che dobbiamo rispettare perché è molto più importante pensare all'inquinamento al riscaldamento globale ad avere una vita più ecosostenibile e più equilibrata ad avere una buona alimentazione che a questi virus che comunque fanno parte dell'ecosistema con questa ape regina vi auguro una buona serata ciao ciao da Francesca dalla ape regina dall'alveare dall'equilibrio della natura e dalla speranza per un futuro migliore un futuro dove torniamo ad essere umani torniamo ad avere un equilibrio con le api con la natura con i colori con la creatività e spero che questo quadro esprima bene questo concetto quindi ciao ciao da Francesca grazie a tutti